Il GIP Marco Biagetti ha sciolto la riserva sulla misura cautelare per il 18enne Ilia Fiorindi. Chiavarago ha colpito con due coltellate lo studente del Best Iman, Adda Benameuro, 17 anni. Ha deciso al momento di mantenere la custodia cautelare in carcere. Ha evidenziato, innanzitutto, e questa è una cosa molto importante per noi, la credibilità, coerenza e plausibilità della dichiarazione del ragazzo. Questo è un elemento molto importante, soprattutto per il prosieguo. L'aggressione al termine di una discussione che aveva come oggetto l'accessione di un panetto di hashish. Il 18enne, arrestato dai carabinieri subito dopo il grave fatto, aveva dichiarato di aver reagito ad un tentativo di rapina da opera della vittima. Ha evidenziato però il giudice che mancano alcuni elementi di natura oggettiva, quale per esempio l'esame autoptico che sarà fatto dal dottor Furlanetto mercoledì e quindi ha sostanzialmente anche esplicitato che una revisione del giudizio potrà anche venire fra qualche giorno ai fini della concedibilità degli arresti domiciliari o una rivalutazione del quadro indiziario tenuto conto dei nuovi elementi. All'appello mancherebbero un secondo coltello ed il cellulare del 17enne tuttora spento e sparito nel nulla. Insomma, una vicenda ancora da chiarire. E' uno di quegli elementi piuttosto nebulosi e importanti che il giudice ha evidenziato come elementi che hanno necessità di una chiarificazione. Allo Stato, è scritto nell'ordinanza, la misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico risulta inadeguata e prematura. Inoltre, Fiorindi potrebbe essere vittima di ritorsioni da parte di soggetti che sarebbero vicine ad Aymen. Non solo, ma la pericolosità sociale del 18enne si desumerebbe, malgrado il comportamento collaborativo ottenuto subito dopo l'arresto, dal fatto di aver portato con sé l'arma, il coltello, potenzialmente in grado di causare lesioni personali ad altri ed ha un atteggiamento spregiudicato che lo ha portato a cercare di guadagnarsi da vivere attraverso cessioni di stupefacente anche a minorenni. Infine, secondo il giudice, l'indagato vive in un contesto sociale degradato e privo di controlli efficaci che non garantiscono dal pericolo di fuga determinato proprio da Fiorindi e dalla sua capacità a delinquere malgrado la giovane età.